Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale, oggi questo video inizia così in un posto insolito, questo è lo studio di mia madre, ho deciso di registrare la intro di questo video qui, proprio perché si tratta di un video diverso come avrete potuto leggere dal titolo, infatti questo è un video in smr sulla preparazione di un semifreddo al caffè con assaggio finale chiaramente, è la mia volta che realizzo diciamo proprio un video di questo tipo, di questo genere, spero che vi possa piacere, l'inizio del video è come i miei soliti video, quindi io percibio preferito lasciare questa cosa, se mi vedete così è perché c'è un caldo incredibile, infatti ho i capelli pure legati, non so voi come ve la state passando ma qua abbiamo toccato i 45 gradi, forse anche di più, veramente caldissimo e io infatti mi sono rintanata qui nello studio che è una delle zone più fresche della casa per girare appunto questa intro perché di fronte con le luci diciamo che è un pochettino, un pochettino gravioso. Ragazzi spero che vi possiate godere questo video, ovviamente io vi lascerò anche la ricetta linkata giù nelle info box, però vedrete chiaramente i passaggi di questa cosa e rimanete sintonizzati fino alla fine perché ci sarà anche appunto l'assaggio come dicevo e con questo prima di passare al video vero e proprio vi ricordo sempre se non lo avete fatto di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche di quando pubblicherò ogni nuovo video, di commentare e di lasciare anche un bel like a questo video e mi raccomando seguitemi su Instagram, trovate come princess trattino passo trattino passo alla, ti pubblico sempre gli aggiornamenti sui miei nuovi video e vedrete anche delle foto di questa fantastica creazione di questa torte e di tante altre ovviamente. Ragazzi passiamo al video vero e proprio spero che possa piacervi e che possa essere utile e provatelo questa ricettina perché è veramente buona, buona visione. Grazie. 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 Grazie.